Lo faccio per te, lo faccio per il tuo bene, te lo dico per te. Quante volte abbiamo sentito queste affermazioni, quante volte ce l'hanno detto quando eravamo bambini, durante la nostra infanzia, da ragazzi, da adolescenti, e questi blog comuni occorre veramente superarli, occorre veramente superare questa logica, occorre avere un'altra mentalità, un altro mindset, un'altra punto di impostazione che possa aprire in questo senso e possa innanzitutto determinarsi con la relazione con l'utente, con la relazione con lo stesso. Mi sento di dire di superare questa logica di che cosa è meglio per te.